Matteo 2017 La Ale Swag in town Prepara le casse fra Nessun problema Se hai problemi di cuore La relazione Il sapore Se il tuo cuore ti ha tradito Te la sei legata al dito Se il tuo cuore batte forte Temendo la malassorte Scrivi ora il fumacupido Avrai rimedio sorriso Perché Matteo ti spiega Menedito Il manuale del suddono incallito Ma la Darpolo gang Ma c'è Ci siamo noi Ma levatele tutti Esatto Ovviamente E quindi niente Siamo qua per un fumacupido Con la Ale Vi è mancata Perché ci voleva un po' Un apporto Dicono no Dicono no Assolutamente Però vi è mancata l'Ale Ci voleva un po' Di supporto femminile Alla questione fumacupido Che necessita di poche regole Che l'Ale si ricorderà immagino Ma le dirà Matteo Perché lui è molto più bravo Ok Nickname trash amoroso Mail non troppo lunghe Perché altrimenti non le leggo Mail solo mail No direct No twitter mail La mail Mi raccomando No consulti privati C'è gente che mi scrive Pagine di roba Poi alla fine mi dice Non metterla in un episodio No Tutto ciò che viene inviato Fumacupido Resta del fumacupido Altrimenti non capisco Perché mi state scrivendo Per il fumacupido E fumacupido Oggetto della mail Mi raccomando Perché le selezioneremo così In modo trasgri Senza leggerle prima Con i rischi e pericoli Che corrono Abbiamo sentato qualcosa? Non credo Mi sembra che Hai detto tutto Se non che Nel caso voleste Aggiornarmi Ogni tanto Non lo faccio Molto spesso Ma ogni tanto Faccio i video Aggiornamenti Quindi Se vi ho dato un consiglio L'avete seguito Anche se non mi avete mai scritto Ma qualcuno Aveva una storia Assimile alla vostra E volete aggiornare Sul fatto che Il fumacupido Vince sempre Mettete come oggetto Fumacupido E poi In modo che ogni tanto Io faccio anche questa rubrica E un po' che non la faccio La farò Va bene Iniziamo Iniziamo subito con una Tizia che si chiama One Nation One Station Top T'adoro Leggiamo Oggi ti scrivo Perché ho bisogno Di un consiglio trash Amoroso Dal re Dei consigli trash amorosi E dalla regina Andando subito al sodo Ultimamente Mi sto sentendo Con un ragazzo Del mio paesino Lui è molto gentile Con me E avendo gli stessi gusti Per quanto riguarda Film Musica Serie tv Credo ci sia una certa Come dire Affinità Comunque sia Questo ragazzo Non è molto ben visto Dalle mie amiche Una mia caramica Lo conosce piuttosto bene E mi ha vivamente Raccomandato Di non cedere Perché a quanto pare È un Don Giovanni Si dice provolone Ma non solo Ha fatto più volte Riferimento al suo Pessimo carattere Tanto che ormai Per strada Non si salutano più Ed è anche un pochino Snob Questo l'ho potuto Effettivamente constatare A dire il vero Nonostante questo Come ho già letto prima Con me si comporta Proprio bene È molto tenero E gentile Ma a questo punto Mi sforgono spontanei Dei dubbi Che stia fingendo Perché infine Lo conosco Da me nemmeno un mese E questo è tutto Grazie per aver letto Questa mail E mi scuso Sei troppo lunga Va bene No ci stava Tanti saluti Anche all'Azuko Che ti saluta Che dici Ale Allora Allora la mia idea è Bisogna vedere Se la tua amica Ti mette in guardia Da questo tizio Perché effettivamente È un provolone O se a lei Sta sugli zebedei Non sto dicendo Che la tua amica In caso Stia agendo subdolamente Però magari Effettivamente A questa tua amica Lui sta A lei sta sugli zebedei E allora dice Non voglio che la mia amica Si metta con questo Perché è un cretino Però Cioè comunque C'è una sincerità Di base Secondo me sì Nel senso L'amica Sta agendo sinceramente Ma probabilmente Romanza molto Sul tipo Proprio perché C'è Spingerti A prendere una decisione Esatto Poi che sia un provolone Probabilmente è vero Ma è anche vero Che lo conosci da un mese Nel senso Lui ha tutto il pieno diritto Per uscire Con le ragazze Che vuole Allo stesso modo Tu sei ancora libera Di uscire con ragazzi Se trovi qualcun altro Ti capita il bacino In disco Nel senso Siete entrambi single Quindi non pensare Già al matrimonio Adesso Anche perché Non è ancora successo Nulla di concreto Il mio consiglio Poi sentiamo se l'ale D'accordo È quello Di conoscerlo Tranchi E verificare Così Se effettivamente Ciò che dice la tua amica Corrisponde A verità Al cento per cento Che Se è amplificato Se invece Lui ha dei lati nascosti Del carattere più carini Però anche Sono lati nascosti Sta in campana Perché molto spesso Perché molto spesso Quando si conosce Una persona interessante Ai primi momenti Si smorzano I propri difetti Esaltando Una parte più sensibile Carina Romantica Se lui è quel tipo di ragazzo Te ne devi accorgere Quindi sta in campana Il modo migliore per stare in campana Secondo me È uscirci O parlarci Come stai facendo Approfondendo sempre di più La conoscenza Ma senza puntare subito A fare cose amorose Cioè fare Nel senso A pensare a una relazione Eccetera Con diffidenza Con diffidenza Questo è il mio consiglio Nel senso Di viverla Con tranquillità È tutto Ma stai molto attento I particolari Esatto Sono fondamentali Poi se capita Il bacino Ma bacino nel senso Che magari Sia tu che lui Avete voglia Del bacino Darsi un bacetto Va benissimo Nel senso Però anche dal bacetto Nel caso capitasse Non dire subito Allora gli piaccio Allora è solo la sua vita Perché no Non funziona così Purtroppo Anzi Purtroppo Relativamente Perché Perché molto spesso Ci facciamo delle illusioni Inutili Invece una relazione Si deve costruire Pian pianino Allo stesso modo Vivi la con diffidenza Questo ti renderà Anche un pochino più Interessante Secondo me Soprattutto dal punto di vista Di un provolone Magari anche disinvolta Perché potresti Anche sentirti Come se avessi Il controllo Nel senso Io decido Se questa persona Vale la pena Che Entri nella mia vita O meno Esatto Devi valutare Se è degna Di entrare nella tua vita Probabil Magari ti starà simpatico Ma standogli appresso Continuamente scoprirai Che non provi Gran che Ma che può essere Un ottimo amico Cioè Tutte le possibilità Sono aperte Non pensate subito A Ci sposiamo Esatto Perché non è Non è il top Vabbè Siamo abbastanza in accordo Su questo consiglio da dare Vediamo come si comporterà Invece Bambolina Subdola 45 Secondo te Sarà Subdola Davvero Vedremo Tra l'altro Non l'ho detto Dovete essere Subdoli Subdolo Subdola Lascialo Lasciala Non l'ho detto Questa volta Mannaggia A sorpresa Metavideo Ecco Bambolina Subdola 45 Quest'anno è arrivata Una nuova ragazza Nella mia classe E subito ha iniziato A interessarmi Non siamo una classe Numerosa E quasi nessuno Ho le mie stesse passioni Che fosse arrivata Una ragazza simpatica Con interessi simili Ai miei Mi sembrava incredibile Dall'inizio dell'anno Quindi Abbiamo iniziato A scambiare qualche parola Finché non ha cambiato posto E siamo diventate Compagne di banco Da allora parliamo molto So che lei Mi trova simpatica Mi vede come un punto Di riferimento Con gli altri Non ha molto rapporto Ebbene sì Ha iniziato a placermi Il problema Che lei è un ragazzo Mi piacerebbe poterle Almeno dire Che ho questo interesse Per lei Ma ho troppa paura Di rovinare tutto Non siamo ancora amiche E non ci conosciamo Abbastanza bene Ho paura di spaventarla O rendere le cose Imbarazzanti per lei Che si trova già In una situazione nuova Non voglio sconvolgerla Ulteriormente E inoltre Non so che reazione Potrebbe avere Nello scoprire Di piacere a una ragazza E questo mi blocca ulteriormente Allo stesso modo Mi sento come se fosse Arrivata apposta per me E non voglio lasciarmi Sfuggire a quest'occasione Cosa dovrei fare? Dovrei parlargliene? E se sì Come pensi che dovrei farlo? Grazie Matteo Bronag! Corrispondiamo a Subdolina45 Che ne pensi Ale? È una situazione spinosa Sicuramente Stavo pensando Una soluzione Adequata Cioè una via di mezzo Tra Tra in effetti Sei E il ragazzo Allora Non è detto Che lei debba Non è detto Che Allora Se una ragazza Ha un ragazzo Non è detto Che non possa Assolutamente Mai avere Una crush Anche per una ragazza No non dico quello Però se lei è impegnata È impegnata Con Una persona Poteva essere anche Un'altra ragazza Sì Quindi non è una cosa Di orientamento È proprio una questione Di Star assieme Lei è impegnata Tu da mica Comunque È vero Provi questo sentimento Questo interesse Innanzitutto Cerca di verificare Se questo interesse Che provi È effettivamente Interesse amoroso Immagino di sì Perché standoci appresso Tanto ok Però Non confondete L'innamoramento Con la cotta Oppure Con l'eccessiva stima Cioè Quando avete Tanto affetto Per una persona Soprattutto se è un amico Stretto Evita Cioè Cercate di capire È veramente amore O è un affetto D'amicizia talmente grande Che Mi sento quasi Innamorato Innamorata Cioè Verificate questa cosa E Per capirlo È necessario È necessario Anche verificare Quindi Ovviamente Ovviamente L'amica Sta con il ragazzo Non fare Subdolate Tipo Mi metto in mezzo Eccetera eccetera Perché rovini tutto Fai un patatrack Infinito E Proprio perché Sei innamorata di lei E anche in quello Consiste l'amore A volte Purtroppo Capire Quando Non è il momento Questo non è il momento Ad esempio Nel caso in cui Lei si lasci Misteriosamente Con il ragazzo Allora In quel caso Puoi sperare Di avvicinarti Anche a livello Di Avance Ma per il momento Se ti senti Manca una questione Di correttezza Nei suoi confronti Perché Cioè È impegnata Comunque Non è Esatto Però Non è accettata Se Senti Che Vuoi parlargene Nel senso Senza secondi fini Ma dirle Guarda Io penso di essermi Innamorata di te Dopo aver verificato Che effettivamente Tu sei innamorata di lei Il mio consiglio è Farlo Perché Per correttezza Ci sta Però Per gradi Nel senso Per gradi Cosa significa Nel senso Prima metterle Sul piatto Che ti piace Una ragazza Senza fare il nome Secondo me Ma non te lo dico Perché è rischiosa La situazione Ma te lo dico Perché è rischiosa In quanto lei è già impegnata Semplicemente Per quello devi procedere Per gradi Piano piano Quindi metti Sul piatto Già Mi sono innamorata E la tua amica E la tua amica dirà Di chi Di chi Di chi Gossip 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 E tu le dici Di una ragazza E inizi pian piano Ad aggiungere dettagli Poco alla volta Poco alla volta Poco alla volta E devi farle capire In un certo senso Che quella ragazza È lei Senza dirlo Così In exploit All'inizio Poi Se invece Senti Di avere dentro di te La voglia Di dirlo in exploit Puoi farlo Secondo me Ma devi trovare Il modo adeguato Per farlo Non nel senso Amica di una vita Ti amo Così Creepy Creepy No Mi raccomando Fallo Piano 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 E Facendole capire Che non è una mossa Per provarci In questo momento Ma è una mossa Del tipo Voglio essere sincera con te Provo questo sentimento Per te Poi Se le lasci la pulce All'orecchio Con il fidanzatino Là Quel comodino Là Crolla tutto Allora Probabilmente Chissà Ti auguriamo Ogni bene Cosa dici Ale No sono d'accordo Sì Sì Va bene Va bene Il consiglio è Era spinosa questa In bocca al lupo Facci sapere Caro Matteo Mi presento come Piedazzo depresso Piedazzo depresso Ci scrive La mia storia Inseta al metri Tanto trash Da apparire Surreale Surreale Circa sei mesi fa Ho conosciuto Questo ragazzo A scuola Durante la settimana Alternativa Con gli studenti Si dedicano Ad attività libere Lui è molto carino Molto intelligente E condividiamo Molti gusti E passione Sto sbagliando Tutti i singolari Scusate Come la lettura E il cosplay Cosa che mi ha fatto Interessare immediatamente A lui Tutto tranquillo Uscivamo spesso E dopo un pochino Ci siamo messi assieme Oh Avevamo deciso Di farci una giornata Di Luca Comics All'inizio novembre Di portare un cosplay Di coppia Seychelles E Francia Da Italia Non so chi siano Posso dire Posso essere ignorante Neanche a me Mi sfugge Facci sapere nei commenti Chi sono Se non tu Perché vuoi rimanere Anonimo Gli altri Chi sono questi qua Preparo il cosplay E partiamo Il sabato Avevamo un raduno Di Italia Ed eravamo fomentatissimi A meno finché Non accade L'impensabile Seychelles Ma scusa Cerchiamo chi cavolo Sono Seychelles Perché Ricerca in diretta Ragazzi Seychelles cosplay Così cerchiamo Perché Se è importante Per capire la storia Esatto Cioè E non va neanche internet Non hai tolto il wifi No Non l'ho tolto Ah ok Vabbè Problemi tecnici Torniamo tra poco Mentre funziona Oh Seychelles cosplay Che cos'è Chi è Non so chi sia Sta Boh Vabbè Me lo direte Comunque Questa Seychelles Ha dei sandali Ok Ha dei sandali Ha i piedi piuttosto scoperti E lui è rimasto sconvolto No Perché tu sei Seychelles Ha i piedi scoperti Ho scoperto Nel giro di 30 secondi Che lui è una specie Di feticista Ma non aveva mai voluto Vedere i miei Perché aveva rispetto Del mio corpo Testuali parole E subito dopo Mi ha lasciata Ma cosa vuol dire Aspetta Ho scoperto Nel giro di 30 secondi Allora A lui piacciono i piedi Ha capito È feticista Le ha viste i piedi Non gli sono piaciuti E l'ha lasciata Ok Questo è Ok Ha detto che gli facevano Eccessivamente impressione Oddio E che non lo attizzavano In hotel mi ha chiesto Seppur molto educatamente Di tenere i calzini Perché non se la sentiva Di rivederli ancora E il giorno dopo Si è girato alla fiera Da solo E neppure mi ha guardata In faccia Ora io non credo Di avere dei piedi Tanto orrendi Da porre fine Alla relazione Ci sono anche rimasta Piuttosto male Perché ci tengo davvero a lui Cosa posso fare? Ragazzi Questa Questa è super Ha battuto anche me Ed era difficile Ah A me spiace Perché Non lo so Allora Io cerco di entrare Nell'ottica Perché Non sono competente In questa materia Però Cerco di entrare Nell'ottica Allora Se effettivamente Lui ha una sorta Di feticismo Cioè Ed è forte Per lasciare una persona Perché ha dei piedi orrendi Cioè A parte il fatto che A prescindere Ok Magari a lui piacciono Tantissimo i piedi Va benissimo Cioè Ognuno ha i suoi gusti Però Se Un conto È comunque avere Qualcosa che No Non una passione Però qualcosa che T'attizza Ad esempio A lui piacciono i piedi Bene Ok Però Un conto È Avere delle cose Che attizzano Secondo me E un altro conto Poi qua entriamo Nella psicologia Quindi non lo so Però Lo dico proprio A livello superficiale Però Un conto è avere le cose Che t'attizzano Nel senso Non lo so A qualcuno può piacere La donna con le tette grosse A qualcun altro L'uomo palestrato Oppure Un certo tipo di seno Un certo tipo di Aspetto Quello è quello che Quello è quello che attizza E un altro conto però È quando si crea Una relazione Di tipo profondo Di un certo tipo È vero che Quanto pare Da quello che mi hai detto Che non voleva vedere i piedi Per il rispetto Del tuo corpo Già lì Vabbè Però Se lui ti ha lasciato Per una questione Se è una parafilia Di questo tipo È un casino Non lo so Mi direte voi Però Però Se è una parafilia Di questo tipo Non coinvolge una persona In una relazione Per poi scoprire Dopo tuo tempo O mio dio i piedi Cioè Purtosto lo indaghi subito Prima di iniziare la relazione Se sei così Ossessionato Dalla cosa Cioè Per rispetto Del tuo corpo Ma non per rispetto Di te stessa Di te Cioè nel senso Perché se ti rispettava E sapeva che era così Esatto Cioè Più che altro Si è comportato Veramente male Come fanno veramente Arrabbiare Ragazzi Anche a me fanno arrabbiare Però Se lui sentiva Questo blocco Avrebbe potuto comportarsi In modo più Umano e civile Ad esempio Esatto Oddio Magari Magari lui Veramente ha voluto Non lo so Aveva un approccio Più delicato Del tipo A me piacciono tantissimo i piedi Prima Lo vive come un grande passo Probabilmente Non lo so Però Te li ha visti scoperti Ha capito che Da nazione Cioè per carità Ci sto cercando di entrare Anche nella sua ottica Però Ok Ha deciso di lasciarti Per questa cosa Che Ci può sembrare Stupida Poteva farlo In modo più dignitoso Secondo me Si Poteva semplicemente Mettertela lì In modo sincero Dicendo Guarda Purtroppo Io Sento un blocco E ciaone Cioè anziché fare Questa roba Del Gli fanno impressione Usa i calzini Non ti parlo più Ma Oh Cioè Lì si è coprato male lui Quindi Nella mia subdoleria Fuori Fuori Dalla vita Dalla vita Non vorrei essere Perché è talmente assurda Che Non fare un po' Una scusa Una scusa proprio Di quegli uomini Che non sono in grado Di gestire una cosa emotiva E la mettono sul primo piano Che ti viene in mente Tipo No Secondo me no L'edilizia Ah ok Nel mio caso No Secondo me Perché Ricordiamoci che anche nel mio caso Delle edilizie Era una scusa assurda Abbiamo scoperto poi Che era finta quella cosa Perché gli uomini A volte Vabbè Non gli uomini In generale Però tante volte Non sono in grado Di affrontare Il lato emotivo E la buttano lì Come gli viene Diciamo È vero Perché non so se vi ricordate Ma l'Ale È stata lasciata Con un discorso assurdo In cui sostanza Uno delle sue Crash passate Ha preferito La strada del signore Rispetto alla strada Dell'Ale Che per carità Cioè ok Però È un po' inquietante No Del signore dell'altissimo Intendevo Però Era Però alla fine Era una banfa Cioè un conto Se fosse stata una cosa vera E un altro conto no Però secondo me A lei lì Era tracciata Qua Dubito che sia una bugia Perché lei parla proprio Che lui è sconvolto Devastato dai piedi Io sarei già scappata Subito Se fosse stata X Cioè scappa Ok tieni tanto a lui Lui si è comporato malissimo Però con te Ti ha trattato come una pezza ai piedi Non ci siamo Facci sapere In bocca al lupo In bocca al lupo Abbiamo tempo per un'ultima mail Sì dai Che dici Velocissima Paxerella 2000 Piaccio da un ragazzo Dice È moro Occhi verdi Gli mancano solo Le addominali scolpiti E lo chiamerà Tom Tom Ha avuto la sfortuna Di conoscermi In una specie di vacanza Di un mese Siamo partiti Come perfetti Sconosciuti E dopo una settimana Eravamo già amici stretti Tre giorni prima Del ritorno a casa Ma confessato Che gli piaccio Sul momento L'ho terrorizzata Non mi è mai successo Nella mia breve esperienza E sono scappata Cosa ne pensi Ale? Cosa vuol dire scappata? È forza via Penso di sì Qualche giorno dopo Gli ho comunque scritto E da allora Abbiamo continuato A sentirci A meno una volta al giorno A vederci anche da soli Ma non mi è mai successo niente Vabbè lui è un martire Però Se mi scappasse Di casa Cioè Vabbè Lui ti ha risposto Vabbè è stato già carino Mi regaliamo la maglietta Vabbè fanino Vabbè fan niente Altro tempo Cioè ricordati Se è stata La storia trash Di qualcuno Bacione Vabbè è bello così Altro tempo dopo Temendo di poterlo illudere Gli ho dovuto spiegare Che per ora Gli voglio bene Solo come amico Ho bisogno di tempo Ho fatto un'enorme cavolata Secondo me sì Ma non l'ho ampiamente frenzonato Secondo me dipende Dalle parole che hai usato Cioè Allora Ci sta che Non sei pronta Io lo vuoi mettere giù bene Però Se usi la parola amico Negli uomini Si registra amico Nel cervello Cioè Si si E out Cioè Devi mettergli laggiù Con una perifrasi Per dire In questo momento Non sono pronta A nuove relazioni Quindi preferirei con te Assumere un atteggiamento Di tipo Conoscitivo Nel avevo Dice così che Vuol dire esattamente Sei solo l'amico E non capisce niente Però Mi dice Boh Vabbè È l'unico modo Per frenzonare qualcuno Tenendolo in pausa Però Senza Le speranze Perse Questo Prima che sparisse Senza mai rispondersi Senza mai rispondermi Su quando Vederci la prossima volta Gli hai spezzato il cuore E nel momento in cui L'ho contattato Io E abbastanza arrabbiata L'ho liquidato la cosa Con un Ho dovuto studiare E poi di nuovo niente E ora Matteo La situazione è trash Nei giorni in cui Non l'ho sentito Continuavo a pensarci Non riuscivo a concentrarmi Sullo studio Mi sono fatta Pacchi mentali Su pacchi mentali E ogni volta Che ricordavo Certe cose del mese Insieme Sorridevo come una scema Io non so Io non so Se mi piace Non riesco a capirlo Non ho mai sentito Le farfalle nello stomaco E ci sono delle cose Di tom tom Che mi lasciano perplessa Ma allo stesso tempo Mi trovavo bene con lui Come non mi sono mai trovata Con nessuno Dopo così poco tempo E ultimamente Mi agito Se lo incontro Per strada Ma è successo prima O spero di incontrarlo Quando non succede Ho paura della risposta Ma secondo te Perché dopo avermi detto Che gli piaccio Sparisce? E cosa dovrei fare? Continuare a sentirlo O lasciar perdere? Vorrei fargli capire Che per me è importante Ma non ne sono sicura Forse sto idealizzando Questa cosa Forse mi attira solo L'idea Che ho di lui Ma tom tom Potrebbe non essere giusto Per me E non voglio illuderlo Al tempo stesso Adesso forse mi sto negando Qualcosa di bello Per paura Matteo sovrano In discussione del trash Mi metto nelle tue mani Salvami Un bacio Grazie per i video E fumaclassici E ci vediamo tra due anni Sicuramente il tempo Che ci metterai Per rispondere a questa mail E invece no Paxerella2000 Scusa per la mia nonna infinita Ma guarda Guarda lato positivo A puntata del fumacopido Più lunga per tutti Come sta avvenendo Tra l'altro Ale In realtà io credo Che questo consiglio Lo puoi dare meglio tu Dici Allora Perché è proprio paranoie Al femminile Paranoie al femminile Esatto Quello che credo Questo rischio Di idealizzare la persona Credo che sia il rischio Che noi tutte Corriamo Corriamo Sì giusto Ma tutti Tutti in effetti Tutti Tutti corriamo Quando ci addentriamo Nella giungla dell'amore Nel senso Che forse Per una Una motivazione Di Paura della solitudine Diciamo E paura anche Dei difetti Dall'altra persona Dei difetti Tendiamo a creare Un'immagine Che per più Non esiste Nel senso Allora Secondo me Io sono abbastanza d'accordo Con Galimbert Ma il fatto che tu Ne sia consapevole È già Secondo me È un passo avanti È un passo avanti Io sono d'accordo Con quello che diceva Galimbert Che è un famoso saggista Che dice Che quando ci innamoriamo Abbiamo la cotta Per qualcuno Perché in un certo senso Vediamo in quella persona Qualcosa che manca a noi Quindi che so È un po' Quello che vorremmo essere A livello di carriera A livello di Di Coolness Cioè Di Di Modo di fare Disinvolto Eccetera Oppure È sensibile È una persona carina È una persona Cioè Galimbert Ti dice proprio Il primo impatto Che ci colpisce Perché vorremmo essere Quella persona A livello superficiale E proprio per questo motivo La idealizziamo molto Le creiamo attorno A un personaggio Che effettivamente Non può essere Perché tutti abbiamo Dei difetti Gravi Che vanno accettati Ma secondo me Il punto è anche un altro Il fatto che lui Si è sparito Dopo che Eh vabbè Ma tu l'hai letto Restiamo amici L'hai praticamente Frienzonato Anche se Dici di no Però nella sua testa In effetti Si è registrato così Se tu hai usato La parola amico Il fatto che lui Comunque si sia allontanato Ha creato in te Una sorta di Di timore Di aver perso Un attimino Il controllo Della cosa Perché tu credevi Di averlo Ma adesso Brava Che subdola Subdolleria Ma adesso Che lui si è allontanato Si è improvvisamente Persa Esatto Sì Quindi Secondo me Perché anche lei Sotto sotto Non si aspettava Questa reazione da lui Esatto Perché appunto Crede di avere Il controllo Della situazione Oppure pensava Ci troviamo talmente bene Che è impossibile Che anche se gli dico Stop right now Thank you very much Lui se ne vada È contro la città Esatto E secondo me Ti ha spiazzato Per quello E in quel senso Probabilmente Un interesse Che Giacomo Avvi dentro Esploso All'improvviso Anche per questo motivo Perché noi vogliamo Complicarci le cose E quindi Il fatto che ora Sia più irraggiungibile Di prima Ha fomentato Questo sentimento Che stava nascendo Probabilmente Quindi che fare Io non perderei Le speranze Il problema Che se tu hai usato La parola amico Devi farne di strada Nel senso Pian piano Con calma Cerca di recuperare Questo rapporto Senza Puntarla Su quando ci vediamo Quando perché Senza dargli fretta Ansia Perché lui è arrabbiato O deluso Non lo sappiamo Perché se a lui Piacivi tantissimo L'hai frenzonato Si è sentito Probabilmente Anche un minimo Umiliato Un minimo ferito Non lo sappiamo Di te con questo Non ne ha parlato E in generale L'uomini sono resti A esternare i sentimenti Quindi Lascialo Rosolare Come una cotoletta È la metafora Che mi piace usare sempre Però Secondo me anche Prima di fare la prossima volta La prossima mossa Mettiti Cioè Fatti l'idea un pochino Più chiara Tu Prima di tu Ah sì 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 E la mossa Non deve essere diretta E chiara Deve essere tutto un percorso Passo per passo Pian piano Pensa Magari Anche se Magari I tempi sono ridotti Ma se la tua vita Senza di lui Sarebbe effettivamente Più vuota Oppure Esatto Meno Come possiamo dire Meno Allora il problema Che in generale Viene data Alle persone L'idea che Senza Senza Un Partner Siamo persone incomplete Senza scopo In un certo senso Perché è uno degli aspetti Della vita fondamentali Il problema Che non è vero Cioè Noi dobbiamo bastarci per primi E bastandoci per primi Siamo in grado Anche di stare con qualcun altro Se noi ci sentiamo Se noi non siamo i primi ad amarci Non potremmo mai amare qualcun altro È quello alla base principale È una sicurezza anteriorità Poi per carità Nessuno si ama al 100% Però Almeno Apprezzare Quei lati di sé Che dici No In questo sono un capo Per dire In questo sono sicuro di me Sicura di me Quindi È un grande lavoro Di autoanalisi E autorealizzazione Ricordalo Poi Se accadrà qualcosa con Tom Tom Lo vedrai Per ora Basta paranoie Basta pacchi E facci sapere Un bacione Puntata del Fumacupido Fluviale Terminata qui Probabilmente Sì dai Vi mandiamo un bacione Da qui Ale E Teo Per sempre Con swag Con swag Yo 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 Fumacupido Rissone Sempre contro Ogni Ciao Ciao